Ciao e bentornati sul mio canale, oggi CreativeVane vi presenta il diorama dedicato a Mercoledì Adams direttamente dalla serie tv, la scena che per ora è la mia preferita e parliamo solo della prima puntata. Questo è un diorama molto grande, big size come si dice nel nostro ambiente, è una scenografia estremamente complessa e quindi è una scenografia che ha un prezzo un pochino elevato. Mi avete chiesto in tantissimi quanto costa, ve l'ho presentato a Novegro e siete passati in tantissimi, il suo prezzo è di 1200 euro, quindi quello che vedete in questa grandezza scala 1.12 tutto fatto a mano tranne che per le cose di cui parleremo tra poco, comprensivo di Mercoledì Adams, costa, IVA compresa, 1200 euro. Ma andiamo a capire perché, innanzitutto vorrei parlarvi appunto di Mercoledì. Mercoledì l'ha progettata Alfredo Marchese Jezza, lo potete trovare ovunque, sia nei miei social ma sia nel suo social Instagram e vedere cosa crea. Alfredo è uno scultore 3D, ciò significa che lui può creare da zero tutti i file che voi volete. In questo caso chiaramente ci siamo basati sulla mercoledì della serie tv, sulla posa che aveva in questa particolare scena e quindi dopo tantissime, tantissime ore di progettazione è nata lei. Alfredo l'ha anche poi dipinta, vi tolgo invece la parte che ho fatto io così da apprezzare meglio quello che ha creato lui. Io amo molto in particolare sia l'espressione perché è veramente difficile prendere l'espressione giusta, il viso parliamoci chiaro è sempre una cosa più difficile per uno scontore 3D, ma lui ha fatto una cosa meravigliosa per cui se la volete anche voi potete contattare direttamente lui anche senza avere il diorama. Però vorrei dirvi una cosa, è ovvio che questo diorama sia molto molto impegnativo anche in termini di spazio attraverso il prezzo di cui vi ho parlato prima. Io ci ho messo veramente tante ore quasi 110 ore di realizzazione totale perché soprattutto come vedete la parte del tetto penso come possiate immaginare è stata molto molto complessa realizzarla solo per creare le tegole quindi non dipingerle, non sfumarle, solo per crearle sei ore e mezzo, sei ore e mezzo più tutte le ore di posa tutte le ore poi per dipingerle e sfumarle. Quello che vedete sopra il lucido che vedete sopra è un effetto che si dà con la resina perché io volevo dare questo senso di umidità tipico, a parte tipico di Tim Burton che vabbè ha fatto l'ennesimo capolavoro, ma una volta che ho finito dipingere tutto, di sfumare ogni singola anche mattonella che vedete qui non ho fatto altro che creare con la resina le giuste sfumature quindi altre sfumature, ho proprio dato anche colori alla resina quindi non l'ho lasciata semplicemente trasparente e in alcuni punti credo che queste si possano apprezzare meglio. Questo perché? Perché volevo che fosse quanto più realistica possibile. Alcune parti sono realizzate con il polistirene XPS che è questo che voi vedete che sto toccando, che come amo sempre dirvi non pensate al polistirolo, non pensate a una cosa che si sgretola, una cosa fragile, ma è una cosa, vedete io ci passo la mano tranquillamente, è una cosa materiale che noi amiamo molto e che è altamente personalizzabile, si taglia facilmente e appunto si può dare qualsiasi forma. Altre parti sono in legno quindi come vedete tutta la colonna questo è tutto legno, sono più pezzi di legno assemblati e altre ancora sono fatte in resina o pasta polimerica quindi quello che vedete qui i gargoyle e la ragnatela tipica, cioè la finestra ragnatela è un file 3D che ho solo stampato e poi dipinto. Mentre per quanto riguarda il leggio con mano, mano è una stampa 3D è un file che si trova tranquillamente su internet, mentre tutto il leggio io avevo postato anche i work in progress le foto e l'ho costruito io da zero. Eccolo. Anche questo e posso farlo in svariati modi ma ho ritenuto che questo fosse molto bello e non so se si vede qui c'è un richiamo alla V di mercoledì quindi di Wednesday ecco il mio, meraviglioso inglese. E anche nella finestra, e questa devo ringraziare Chiara, la mia fidanzata che chiaramente mi aiuta a progettare a volte anche a creare quello che poi voi vedete nel canale e dopo aver fatto questo piccolo rosone mi ha detto ma perché dentro non ci metti il logo di mercoledì? L'ho trovato in idea geniale per cui dentro come vedete c'è questo forte richiamo al logo. Io sono qui anche per dirvi un'altra cosa che ho in mente anche con Alfredo di, a parte fare altri diorami di questa serie ma voi sapete che io creo solo su commissione quindi solo se voi me lo chiedete a parte questa volta farò un'eccezione perché voglio creare un diorama più piccolo quindi molto molto meno invasivo anche in termini di dimensioni e quindi di conseguenza anche di prezzo perché se qui ci metto 110 ore ha un prezzo se ce ne metto 30 ha ovviamente tutto un altro prezzo quindi lo farò meno profondo ma sarà anche quello stra dettagliato e comunque il mood, la scena, il mio stile diciamo sarà sempre questo quindi molto dark, molto sporco e mi servirò anche lì chiaramente della resina per cui state con me perché nei prossimi mesi vedrete questa cosa, ci saranno due versioni, una a diorama e una da appendichiavi da muro quindi sospeso, sospeso con la retroilluminazione come anche questo ma adesso non si vede forse e vi dirò chiaramente sempre anche i prezzi, ricordatevi che i prezzi sono già comprensivi Diva quindi vi ho detto veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con me fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo, quindi di questo big size ma anche dei futuri progetti a cui stiamo lavorando, ciao!